Andre Andre è uscito come è uscito ma se l'ho visto prima che stava registrando è prima ma adesso è uscito e dovresti uscire anche tu perché questa è frazione si va sul penale frazione ma era aperta la porta sono entrata normalmente ok allora violazione di domicilio sempre penale no perché io abito qua non mi pare ma che gli avete fatto alla voce è la pubertà pube pubico pubescenza palpata puliciata pipino pisciata popperina tutto pulito profilattico che c'è? non si dicono queste parole perché no? perché è una parolaccia no non è una parolaccia no e anzi non la dire ok ma guarda che sono importanti i preservativi salva un sacco di vite infatti sono anzi il modo più efficace per proteggersi lo so ma magari non lo sapevi perché ti stai comportando come una no 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 quella non è di andrea quella non è di andrea cioè non è per lui però non è per una donna è per il vicino per il vicino per il vicino si per regalargliela è una cosa ecco il coso della ho capito no 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 non è quello che pensi tu non ci sarebbe niente di male no infatti infatti anzi ma magari no no noEC se non è per lui non è per lui allora però il coso della è il mille e trecento e quarantotto la l'onorificenza inglese non militare si eh quella ah si esatto vedo che avete imparato un sacco di cose mia assenza si danno la palisse dai ma come non ti ho raccontato è da un mese che te la devi raccontare questa storia adesso lo chiamo gli occhiere Guarda non c'è bisogno Bisogno Ciao Andre Bisogno Ti scrivo insomma ti chiamo per dirti che Bisogno vuol dire cacca Loro Loro ti aspettano io non sono sicura Ci sarò però Ci sentiamo Cacca